Sì, sto agghiacciando. Allora? Come si va? Bene. Spacchi tu, mi sa, eh? Io? Tranquillo. Parlano bene di te? E com'è? Benissimo. Parlano bene di lui? Figo. Sì, parlano benissimo di lui. Spacca, certo. Il capo della villa. Qui si è creato un bel gruppo, eh. Ti do la verità. Il cameratismo maschile è abbastanza elevato. Il cameratismo è importante, però ricorda che l'obiettivo del gioco è la coppia e non il gruppo. Io ora come ora è gioco. Quindi va bene così. Ti hai giustamente fatto il tuo stasera, sei entrata a giocare. Certo. Per me è un gioco come te. Allora io non so il motivo per cui tu sei entrato. Il mio motivo è vivermela. Punto. Non mi aspetto niente. Perché comunque fuori da qui mi sono costruito le sicurezze. Anche io. Il problema è che qui entri con la tua valigina e basta. Sì, sì, sì. Se c'è dietro. A casa. Contro più un cazzo. Quindi qui parola d'ordine. Umiltà. Uno entra tranquillo. Perché vedi che non ci sia stata umiltà. Poca. Io sono più umile di quanto tu possa credere. Poi come hai detto tu la prima fase del gioco. Certo. Giochiamo. A volte. Ma ci si diverte pure. Noi. 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 Noi.